Gli uomini invecchiano meglio, convinti loro, la tua cellulite è un problema, la sua pancia un cuscino per l'amore. Angoli, lasciate che vostro marito dorma sul divano. In studio, Roberta Pagnetti. Buongiorno signore, ben ritrovati a tutti, buongiorno signori che avete deciso di trascorrere ancora, anche questo lunedì, un'oretta in nostra compagnia, come sempre vi ricordo siamo in diretta su Espansione TV, sono le 12 in punto, noi arriviamo sempre a quest'ora tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, iniziamo allora un altro cammino insieme, oggi iniziamo quella che mi auguro per tutti noi possa essere una bellissima settimana, come è andato? Il weekend è andato bene, mi auguro anche che sia andato bene il weekend, spero che vi siate riposati, noi ci siamo un po' riposati e un po' abbiamo lavorato perché giustamente dobbiamo partire offrendovi una nuova settimana ricca di ospiti e di argomenti, ricordo come tutte le volte Angoli Chiaccio e l'Espansione TV.it, questa nota di servizio per ricordarvi che potete entrare in contatto con noi, poi adesso siamo pronti in realtà per entrare nel vivo di una trasmissione molto ricca di ospiti anche oggi, ne avremo moltissimi, parleremo di tanti argomenti con sueta anticipazione, dunque di cosa ci occuperemo oggi? Beh, ritorneremo a parlare di moda insieme alle amiche del mercatino della moda, una realtà comasca che tanti, tra quelli che vivono in città conoscono, dunque vedremo ancora una volta degli spunti interessanti se stessimo cercando qualche capo particolare per rinnovare il nostro guardaroba, poi ancora parleremo degli occhi, del salute dei nostri occhi, quindi come vedere meglio lo faremo in compagnia di un ottico, dunque avremo utili consigli anche per quanto riguarda questo aspetto della salute e poi parleremo del panathlon, ebbene sì, daremo un appuntamento importante, il 24 novembre sarà una data da ricordare, abbiamo tante cose da affrontare, passo passo, iniziamo però dando il benvenuto e il ben ritrovato al primo ospite che insomma rompe il ghiaccio della nuova settimana e un graditissimo ritorno per il nostro salotto, buongiorno Patrizio Del Nero. Buongiorno a tutti. Come sta? Benissimo, direi che con la stagione che si mette il bello stiamo bene. Eh sì, perché paradossale, stiamo andando verso l'inverno ma in Valtellina è tornata l'estate, lei mi diceva, vero? L'estate di San Martino, ma dopo la neve c'è l'estate, quindi si vive meglio anche il territorio, il paesaggio, il divertimento e il tempo libero. Eh sì, è vero, è vero, io voglio ricordare che lei è il direttore del distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, per quello ho detto ben ritrovato e non solo buongiorno, perché insomma periodicamente ci fa molto piacere rivederla. E allora raccontiamo un po' che cosa sta accadendo in Valtellina, ma partiamo soprattutto da che cos'è il distretto, perché noi lo diamo un po' per scontato oramai, ma ripetiamolo che fa sempre bene. Beh, il distretto sembra una grande paralona anche un po' burocratica, ma in realtà è una società di aziende, tutte valtellinesi, che producono i prodotti tipici della nostra terra e danno la possibilità ai tanti estimatori di poterli trovare sulla loro tavola, degustarli come se fossero invece direttamente in Valtellina, pur comprandoli da un'altra parte come se li compressero direttamente alla Valtellina, perché sulle caratteristiche dei prodotti tipici, che sono tanti, dai vini della Valtellina ai formaggi, il bitto, il casera Valtellina, le mele, il miele, i pizzoccheri, le bresaule e le altre tante fragranze. Il mix di questi prodotti fanno la nostra gioia, la gioia di chi gli piace mangiare bene, ma non solamente di chi piace mangiare bene, ma di chi apprezza un territorio alpino come quello della Valtellina e della Val Chiavenna. Noi non ci stanchiamo mai di parlare di Valtellina, perché in realtà appunto diamo un po' per scontato che chi abita le zone di Como, del lago, insomma, le conosca bene, però noi sappiamo, trasmettiamo in tutta la Lombardia, allora spingiamo sempre molto, perché è una terra da scoprire, insomma, della Valtellina si parla tanto, spesso il simbolo sono sempre i pizzoccheri, ma non ci fermiamo a quello. Adesso arriva però la stagione perfetta per il pizzoccheri, vero? Beh, ha un contenuto energetico appropriato, diciamo così, che in un momento come questo, l'autunno-inverno, il pizzoccheri si degusta e si mangia meglio, anche se per la verità il pizzoccheri, come gli altri prodotti, ha 365 giorni all'anno, senza problemi. È vero, è vero, ma non ci si ferma solo al pizzoccheri, perché il distretto agroalimentare della Valtellina, lo vediamo grazie anche ad alcune fotografie, insomma, rappresenta diversi prodotti, anche quelli che magari non pensiamo, se non conosciamo tanto bene la Valtellina, che possano essere associate a questo posto, perché abbiamo visto i mieli, le mele. Le mele, soprattutto nella parte del versante retico della Valtellina, che si divide in due grandi, diciamo così, parti. Il versante retico, che è il versante sulla destra, rispetto l'adda che la traversa, e quello sulla sinistra, che è quello orobico. Se quello orobico è vocato per i formaggi tipici, il caseiera, il bitto, quello invece sulla destra è vocato, data l'insolazione, per i prodotti come l'uva, quindi i vigneti, il vino e le mele, in particolare le mele GP della Valtellina, e qui adesso c'è anche la derivazione del succo di mela, il succo di mela, che ha un contenuto anche qui importante dal punto di vista nutrizionale, va bene per una dieta alimentare appropriata, ed è anche gustoso. E poi è una mela di montagna, sia la rossa piuttosto che la gialla. Cosa vuol dire mela di montagna? Che sapori in più ha rispetto alle mele non di montagna? Beh, intanto il succo, è molto succoso da questo punto di vista, e ha un profumo che è un po' particolare, perché nasce su un pendio che va dai 400 metri fino ai 600, 700, 800 metri, e quindi sia l'insolazione, sia il microclima che si genera, dà un contenuto proprio dal punto di vista anche dei sapori, del gusto, e anche dal punto di vista del dolce stesso, che è un po' particolare, che si differenzia rispetto alle altre. I prodotti di montagna hanno un sapore in più, che lo si riconosce, ma anche per i vini vale, così come per i formaggi, proprio perché il microclima, l'esposizione, l'escursione termica che si genera tra il giorno e la notte, dà queste proprietà in più, questo retrogusto, questo sapore che lascia, questa voglia di continuare a mangiarne. Eh sì, e lei so che sta parlando direttamente alle persone che amano la buona tavola, poi io amo molto quando lei viene nel nostro studio, perché riesce a trasmettere proprio una voglia che ogni tanto mi chiedo, ma perché non c'è qui un tavolo con un po' di buona presa aula, un po' di formaggi buoni, insomma, sono veramente prodotti da gustare, da mangiare, ha fatto cenno però anche al vino, non dimentichiamo che si è appena conclusa la vendemmia, e la Valtellina, insomma, è una terra dove l'uomo ha lavorato tanto per avere del buonissimo vino. Eh sì, perché la vendemmia si è conclusa praticamente a fine ottobre, inizio novembre, tranne quella dello Sforzat, che continua poi fino a quasi il mese di febbraio, perché lo Sforzat, che è un vino un po' particolare, fatto da uve passite, queste vengono lasciate in un tempo più lungo rispetto alle altre, vengono poi portate ad essiccare, ad asciugarsi naturalmente, per poi essere lavorato, quindi è un vino veramente da gustare eccezionale, che ha un valore aggiunto anche se è accompagnato di prodotti, come in questo periodo la selvaggina, piuttosto che i grandi formaggi, grandi vini, grandi formaggi, grandi prodotti, quindi magari c'è chi il vino gli piace, è un vino più novello, è un vino meno importante, perché poi ci sono le varie possibilità, in base ai vari gusti, ai vari cibi da accompagnare, e nei terrazzamenti evitati dalla Valtellina tutto questo è reso possibile dalla cura secolare dell'uomo che ha consegnato oggi a noi, e noi lo consegneremo ai figli, ai nipoti, ai pronipoti, un paesaggio che è unico. Unico. Speriamo diventi patrimonio dell'umanità, perché è un paesaggio fatto. Vi state muovendo anche in questo senso, perché so che comunque il distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, di cui lei è il direttore, comunque ha molti progetti in corso e volti anche al futuro, perché il vostro è un mix perfetto tra prodotti eccellenti, tradizione, e ce l'ha fatto capire, e innovazione. Quindi cosa si sta muovendo il distretto adesso? Intanto noi ci stiamo preparando per realizzare in tempo abbastanza breve un progetto in modo che metta il consumatore sempre più in contatto con il prodotto, perché è importante che il prodotto sia quello naturale, quello vero. Ci sono purtroppo, abbiamo visto anche in questi giorni tantissime contraffazioni di chi utilizza il Made in Italy e i prodotti locali per prodotti che non hanno nulla a che fare con la realtà locale. Il consumatore deve essere tutelato fino in fondo garantito sia con i prodotti certificati di OP, GT, GP, DOC, che sono le certificazioni europee, ma per riconoscere questo occorre che il prodotto abbia una sua riconoscibilità attraverso l'etichetta. Quindi un consumatore che vuole provare i prodotti di cui noi abbiamo parlato, relativi al territorio valtellinese, come può fare per non acquistare qualcosa che non sia proveniente? Intanto tutte le nostre aziende associate avranno un mini sito al quale puoi accedere attraverso un semplice iPhone o un contatto che anche il codice che si troverà sulle etichette che è il cosiddetto QR code o comunque anche una modalità di accesso che sono i link che si fanno ai siti web delle aziende stesse che danno intanto la carta di identità del prodotto. Ho davanti una bottiglia, so che contenuto effettivamente è a quella bottiglia. So chi è il produttore, so chi è l'azienda e quindi quella bottiglia lì, quel pezzo di formaggio piuttosto che la bresaola o altro appartengono effettivamente a quel produttore, a quel territorio. Se non riuscite a risalire alle informazioni dal prodotto che avete acquistato significa che non arriva da lì. Esattamente, quindi è semplice attraverso un link, cioè l'accesso a internet dà tutte le informazioni, l'azienda, il territorio, il consorzio di tutela al quale appartiene, tutto quello che è necessario avere senza portarsi dietro a un ciclo per via. Oggi con un semplice clic abbiamo tutte le informazioni. Allora possiamo dare il sito internet comunque del distretto che serve sia per capire come raggiungervi, come fare per venire a provare i vostri buonissimi prodotti, ma anche come avere maggiori informazioni su quelle che sono le tutele che noi consumatori ci aspettiamo da un prodotto appunto riconosciuto e certificato. Il sito è www.valtellinachegusto.eu, lì si hanno tutte le informazioni, corretto? Sì, si hanno tutte le informazioni, si ha la possibilità attraverso il nostro sito di accedere anche a quelli delle aziende e dei consorsi di tutela e quindi diciamo il consumatore ha a disposizione tutto quello che serve per chi vuole un'informazione magari più leggere, invece chi vuole più approfondita e tecnica la possibilità c'è per tutti. E allora visitate il sito, io ringrazio tanto ancora una volta Patrizio Del Nero, il direttore del distretto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, siete tutti invitati in Valtellina. Eh sì, dobbiamo raccoglierlo l'invito e noi ci fermiamo solo per un istante perché Angoli va avanti, ma è arrivato il momento della musica, ascoltiamo insieme i Modà con tappeto di fragole e poi siamo di nuovo in diretta. Di nuovo in studio insieme, di nuovo in diretta, lo sapete a quest'ora anche in questa nuova settimana ci colleghiamo con l'Iper di Grandate, al telefono con me oggi è Eugenio che in realtà abbiamo già incontrato il panettiere dell'Iper di Grandate, buongiorno Eugenio. Buongiorno. E allora oggi di quale prodotto parliamo? Ma oggi parliamo della michetta. Bene, cosa ci può dire di bello, di buono? Ma la michetta, vabbè, abbiamo cominciato a farla perché è il pane classico della tradizione lombarda. Sì. E col sistema tradizionale, cioè con lievito naturale preparato il giorno prima e rinfrescato il giorno dopo, stampata rigorosamente a mano, risultato è un pane croccante, vuoto all'interno, cioè proprio la michetta classica della tradizione. È sempre buonissima, tradizionale ma buonissima, vero? Sicuramente. Quindi lei sarà lì ad aspettare tutte le persone che vorranno sia per le michette che peraltro avere dei consigli? Sicuramente, aspettiamo, venite pure a trovarci, tutti i giorni la michetta è presente sul nostro banco insieme a tutte le altre qualità di pane che proponiamo. E allora Eugenio, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e buona giornata. Altrettanto, arrivederci. Grazie. E ritorniamo in studio, vi ho detto che ci saremmo occupati nuovamente di moda, sì, lo facciamo con le nostre amiche del mercatino della moda, voglio dare il ben ritrovato a Giovanna Antonicelli, la titolare, buongiorno. 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 Tutto bene? Sì, tutto bene. È ritornata insieme ad Alessia Molteni. Buongiorno. Buongiorno Alessia. Lei è responsabile del mercatino della moda, diciamo, della parte di Via Vitani, perché ricordiamo sempre sono due realtà diverse a Como, vero? Certo, due punti vendita, Via Benzi e Via Vitani. Eh ok, quindi Giovanna Via Benzi e Alessia in Via Vitani. E lo sapete, se ci seguite con frequenza sapete che loro vengono a farci sognare, fondamentalmente è un po' quello che fate. Che bel complimento. Eh però è vero, è vero, perché poi Alessia è molto carina, molto gentile e dice, vabbè, vi faccio proprio vedere i nostri vestiti, i nostri capi d'abbigliamento, i nostri accessori come vestono bene. Perché ripetiamo la filosofia del mercatino della moda per chi non la sapesse e intanto invitiamo Alessia a raggiungere il centro dello studio. Il mercatino della moda è praticamente usato, usato di qualità, firmato, attuale, come potete vedere bello, da giorno, da sera, da uomo, da donna. Eccoci, eccoci, oggi affrontiamo l'abbigliamento da sera, era una promessa che avete fatto. Era una promessa, pelliccia con abito da sera. Guarda, Alessia, vieni più centrale così, oh guarda che bella. Mi racconti che cosa hai? Intanto complimenti, sei bellissima. Grazie. Che cosa hai scelto? Oggi ho scelto una pelliccia in persiano nero, ornata di polsini in visone silver e collo. Perché giustamente è inverno, quindi c'è tutta la parte anche pellicceria. Bisogna proteggersi. Bellissimo, posso? Grazie. Guarda è morbido da morire, bellissimo. Morbido, leggero, caldo. Caldo, caldo. È pratico, direi. Sì, vero. Beh, direi una chicca già il cappotto, vero? Certo, si presta anche a essere portato di giorno, ovviamente. Ah beh, sì. Chiaro. Però con questo vestito rosso da femme fatale, come si dice, da urlo, è stupendo. Questo è un abito di Valentino, prima linea, in seta, con questo fiocco in chiffon. Bellissimo per una serata a teatro, ma anche al ristorante, con il proprio marito fidanzato, perché no? Eh sì, sì, beh, certo che con il proprio marito fidanzato è un vestito così, insomma, direi che gli sguardi sarebbero catalizzati tutti comunque su Alessia e non più su quella che è la cena. E poi delle scarpe gioiello meravigliose. Siccome promesso l'altra volta, oggi indosso un sandalo gioiello di Dolce Gabbana con Swarovski e stiletto ammazza uomini. È sempre per rimanere in tema, così il nostro uomo, il nostro compagno, cioè veramente non ha più armi per difendersi, è steso completamente. Sono bellissime, ma anche le scarpe in ottime condizioni. Sì, certo. Ricordiamo che poi quello è sempre la richiesta che fate. Siamo particolarmente severe sulla selezione delle scarpe, ovviamente, sì. Certo, quindi sono quasi sempre nuove. Sono praticamente sempre nuove portate, certo, se una scarpa ad alta moda, magari portata una sera, possiamo anche chiudere un occhio. Ma questo stiletto è comodo? Perché lo sai che la domanda a casa è quella. Assolutamente, è comodo. Beh, non è particolarmente alto è questo, ce ne sono di più alti, eh Roberta? Sì, è vero. Bellissima, Alessia, bellissima. La stiamo facendo. Grazie. Un'ultima panoramica gliela facciamo ad Alessia, che è meravigliosa, bellissima. Ma so che a proposito di scarpe ci avete portato qualcos'altro. Adesso quando Alessia si accomoda, esatto, vedremo qualcos'altro. Ricordiamo anche che comunque noi privilegiamo il mondo femminile, ma non vi dimenticate degli uomini, vero? No, assolutamente. Anzi, vogliamo stimolarli un pochino a portarci i capi, perché ormai anche gli uomini sono appassionati di moda. Lo vedo, ho un figlio di 23 anni che anche lui sta attento agli abbinamenti, chiede consigli, quindi voglio stimolare il mondo maschile ad imparare questo modo di rifarsi il guardaroba, no? Sì, è vero. Perché è anche un modo intelligente, secondo me. E allora, ripetiamo qual è proprio la filosofia, ovvero noi persone, utenti normali, con i nostri guardaroba, abbiamo sicuramente una parte di vestiti che non utilizziamo più e sono magari in ottimo stato, proprio l'acquisto sbagliato che abbiamo fatto. Certo, certo. Possiamo prendere quelli, dare una seconda vita venendo da voi e curiosare e magari cercare qualcosa di nuovo. Anche perché no, però i capi che si portano comunque al momento della vendita vengono pagati al cliente fornitore. Quindi comunque il metodo è il conto vendita. Il metodo è il conto vendita, esattamente. Sempre l'occhio attento, sia di Alessia che di Giovanna, che valutano che tutto debba essere in ottime condizioni. Ovviamente sì. Vero? È una condizione necessaria, essenziale. Ricordiamo il sito internet perché l'abbiamo fatto, ci vediamo da tanto tempo ma l'abbiamo dato per la prima volta e l'altra volta, vero? È vero, è vero. Ed è segnatevelo, segnatevelo, www.abbigliamentofirmatousato.com che riassume già la filosofia, vero? I fatti. Esatto. Bastano due parole. Ma Alessia, parlavamo di scarpe, abbiamo visto le tue stupende che indossi, ma ce ne avete portate altre, vero? Ho selezionato questo sandalo sempre da sera di Giuseppe Zanotti Design che diciamo è un maestro nelle scarpe, nelle scarpe, nelle scarpe, nelle scarpe, gioiello con questa decorazione. Questo è un granchio in metallo e cristalli svaroschi. Guarda, giro la frontale, esatto, dall'altra parte, così, perfetto. Guarda che bella. In modo che? Quindi cristallo svaroschi e poi si va a legare alla caviglia. Alla caviglia, in questo modo. Alla modi bracciale. Alla modi bracciale, sì, attorno alla caviglia. Beh, diciamo che poi il sandalo gioiello in questi ultimi anni è veramente qualcosa che poi può cambiare effettivamente, è quel particolare dell'abbigliamento che ti cambia completamente il look, vero? Sì, soprattutto se uno è vestito in maniera semplice, sobra, un abitino, un tubino nero, mette un sandalo così e rivaluta tutto l'insieme. È vero, è vero, è vero. Un po' magari per la stagione invernale, un po' proprio da serata e da occasione. Ricordiamo però che abbiamo visto tanti anche stivali, che in questo periodo immagino ce ne siano tantissimi, vero? Esatto. E poi non si ferma tutto solo a vestiti, cappotti, quindi tutto quello che usiamo abitualmente, ma c'è anche l'accessoristica. Un po' con le scarpe l'abbiamo capito, ma c'è anche la parte gioiello e borse. Ne parliamo un po'. Certo, certo. Ne abbiamo portato qualche pezzo. Qualche pezzo. Qui abbiamo una cintura collana, io la prenderei in modo che possa essere mostrata, di Roberto Cavalli, sempre in cristalli svaroschi. Quindi doppio uso può essere utilizzata sia come cintura che come collana. Io mi stupisco perché sono veramente degli oggetti così belli e che sono effettivamente, li guardi dicono nuovi, perfetti. E questo infatti ha anche la sua scatola, in modo che può essere regalato. È vero. Senza problemi. Poi abbiamo un bellissimo collier di dolman, sempre in cristalli svaroschi, verde e rosa e smalti. Mamma. Io sai quando ti viene l'effetto gazzaladra, no? Si è l'occhio che dici non riesco a non guardare. Però vedi Giovanna, io l'ho detto all'inizio, voi ci fate sognare, poi sembrava che lo dicessi a sproposito. È vero. Ma portate cose del genere. Ma in questo caso i sogni diventano realtà. È vero. È vero. C'è anche della convenienza rispetto ad andare a prendere la stessa cosa in un negozio ufficiale, tra virgolette. E il format vincente è proprio quello, che si trovano oggetti di grande valore, dei prezzi accessibilissimi. E poi ricordiamolo, perché tu ci spiegavi, insomma, tutte le volte in cui ci siamo viste, che quando è ripartita, insomma, proprio agli inizi dell'attività, che era il 95, Era il 95, diciamo che c'era un pochino più anche di timidezza a portare, adesso è una cosa, è un concetto sdoganatissimo. Assolutamente sdoganato, anzi è diventato divertente, quasi un gioco, si trovano cose, anche ho clienti che portano magari il pezzo che hanno comprato negli Stati Uniti, che hanno comprato in Inghilterra, che hanno comprato nel viaggio che hanno fatto in Medio Oriente. Quindi si trovano cose insolite, originali, assolutamente. Che magari non riusciremmo normalmente a trovare qui in Italia. Mai, mai, assolutamente. Quindi c'è anche proprio il particolare, la cosa che si fa fatica a trovare normalmente. Assolutamente, sì. Alessia, eccoci qui. Questa è uno dei miei pezzi preferiti, è una cintura vintage, una cintura serpente, totalmente snodabile. Con la testa di serpente proprio. Con testa in Swarovski e codina. Beh, giustamente. Bisogna essere anche un po' audaci, perché poi con gli accessori bisogna un po' usare, è vero? Usare, sì, ma poi di sera ci si può anche sbizzarire di più, no? Sì, 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 perché magari appunto rimaniamo con linee pulite per quanto riguarda l'abito, però l'accessorio che brilla. E si esagera un po' con l'accessorio, perché di sera con le luci danno il massimo questi oggetti. Ecco, ecco, è un'altra cintura. Questa è un'altra cintura. Tutta Swarovski. Guarda, metti la frontale se riesci. Eccoci qui. Infatti, volevo mostrare la chiusura in velcro. Mamma mia, è meravigliosa. È meravigliosa. Va molto, quindi piace l'accessorio che brilla? Sì. O sono solo io che adesso sono qui con l'occhio attrito? No, 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 noi donne siamo tutte attratte. Ripieghiamo sullo Swarovski, magari il diamante è un po' troppo costoso. Però, signori all'accessorio... Però brilla comunque, quindi... Non intimiditevi, se volete regalare un diamante. Che problema c'è? Cioè, non fate i timidi, non capisco. Ripieghiamo... No, sono bellissimi anche gli accessori Swarovski. E poi questo bracciale... Questa è una chicca. In fondo abbiamo questo bracciale di Louis Vuitton con tutti i vari charms. E allora io... Medagliette, chiavi, corsette, lucchetti. Questa è un'altra cosa che a noi donne piace tanto. Tutti simboli della Maison. Ovvero le cose che un po' fanno rumore. Che fanno rumore. Questi bracciali importanti. Visto che purtroppo dobbiamo chiudere. Mi sono resa conto adesso che siamo andati ben oltre. Giovanna, lasciamoci con un appello. Arriva il Natale. Bisogna anche vedere un po' di regali. Uomini e donne vengano al mercatino della moda. Certo, a trovarci nei nostri ponti vendita. Via Benzi 13, via Vitani 22. Perché sia per un mondo, e dico femminile, che per quello maschile, c'è ampia scelta. Assolutamente sì. Allora, ringrazio le amiche del mercatino della moda. Giovanna Antonicelli, grazie tante. Grazie, grazie Roberta. E Alessia Molteni, grazie. Grazie Roberta. E noi ci dobbiamo interrompere. Bene sì, è arrivato il momento della pausa. La pausa, come sempre, dura pochi minuti. Poi siamo di nuovo qui. Vi accompagniamo fino a luna. Vi aspetto. E sì, ve l'avevamo promesso. Insomma, la nostra pausa, in fondo, a quest'ora, dura pochi minuti. Noi adesso siamo di nuovo in diretta. E vi accompagniamo, come sempre, fino a luna. Abbiamo ancora diversi argomenti da trattare. Vi ricordo, come all'inizio di ogni seconda parte, la nostra email angolichioccioleespansionetv.it. Lo so che magari sono insistente, però io ci tengo tutti i giorni a ricordarvi che, se voleste mai, se vi rimanessero dei dubbi riguardo a quello che vi raccontiamo giorno per giorno, insomma, c'è la possibilità di recuperare delle informazioni o comunque mettervi in contatto con noi. Vi ricordo anche che le canzoni che ascoltiamo potete scegliere se vi fa piacere, perché, insomma, ci rendiamo conto che magari uno ci segue mentre sta cucinando, gli fa piacere ascoltare anche una bella canzone e se ne voleste una in particolare serve soltanto chiederlo e questo è l'indirizzo al quale farlo. E dunque, allora, adesso abbiamo un nuovo ospite. Affrontiamo un discorso che per chi ha seguito l'apertura, insomma, io ho detto qualcosina, ho speso poche parole, però dicevo, parleremo un po' di tutto ciò che è il mondo vista. Parliamo alle persone, cerchiamo di dare buoni consigli per tutte le persone che utilizzano gli occhiali. Allora, andiamo passo passo. Innanzitutto diciamo che c'è un ospite che per la prima volta viene nel nostro salotto di Angoli, quindi voglio dare un benarrivato ad Andrea Codato. Ciao. Grazie, ciao. Ottico. Ottico, ottico. Diciamo subito che questa è la tua professione. Dove la svolgi? Presso l'ottica Codato. Esatto, l'ottica di mio padre. Eh sì. Che l'ha aperta nel lontano 1978, quando sono nato io. Ah, peraltro, vedi? Sì, sì, sì. Cioè sono nati due figli, tra virgolette, tu e la... E il negozio. E il negozio. E il negozio. Quindi parliamo ai comaschi, insomma, adesso chi ci sta ascoltando a Como dice ah sì, ce l'ho in mente in via Milano, giusto? Sì, spero di sì. Secondo me, secondo me qualcuno dice sì, ce l'ho in mente. Sì, sì, beh, è abbastanza trafficata, quindi in effetti sì. Via Milano numero? 111. Ok. Sì, sì, proprio a metà della via Milano quasi. Ok, quindi sì, per tutti noi di Como è proprio quella. Mentre lo dicevamo avete immaginato bene. Quella di via Milano. Esatto. Noi, tuo padre l'abbiamo visto, è stato nostro ospite, però per te oggi un po' l'esordio. Sì, sì. Quindi abbiamo capito quando nasce Ottica Codato, quindi nel 78. Esatto. In concomitanza al tuo arrivo nella famiglia. Esatto. Quando decidi invece proprio di intraprendere, che è una curiosità mia, le stesse orme di papà? 12 anni fa circa. Sì, sì, 12 anni fa, avevamo aperto anche un altro punto vendita, però poi è stata, proprio quando è cominciata la crisi, abbiamo dovuto rinunciare, siamo ritornati tutti assieme. Al campo base. Sì, sì, sì. Quindi era nato un po' come esigenza di aprire due posti, insomma, dell'azienda Ottica Codato e di destinarli ognuno a qualcuno della famiglia. Esatto, esatto. Ok, adesso siete tutti lì, insomma, lavorate, andate avanti e vi occupate della salute dei nostri occhi, perché insomma, lo sappiamo, gli occhiali sono tra gli strumenti più utilizzati nella quotidianità. Oggi diamo utili consigli, perché? Perché, insomma, cerchiamo di capire come migliorare alcune situazioni, come migliorare la vista per le persone che portano gli occhiali in alcune situazioni che si possono vivere nel quotidiano. Ad esempio, se io ti dico, quando c'è poca illuminazione, cosa succede? Quali possono essere i problemi? Succede che se portiamo gli occhiali con una correzione normale, giusta per i nostri occhi, potremmo incorrere in alcuni difetti visivi. C'è il problema dell'abbagliamento delle luci, scarsità di contrasto e soprattutto al crepuscolo questo. E quindi ci può aiutare una buona lente oftalmica, ma anche l'antiriflesso, che è un trattamento che si fa superficialmente alle lenti. Insieme a queste cose, da due anni a questa parte, è nato un nuovo strumento della Zeiss, che si chiama iProfiler, che è in grado di calcolare al centesimo le diottrie che bisogna prescrivere all'utilizzatore finale. Invece di avere una misurazione, che potrebbe essere quella del medico, la nostra, che è una misurazione soggettiva, c'è questa misurazione oggettiva di questo strumento Zeiss. È quello che vediamo? Esatto. No, quello è lo strumento per la centratura delle lenti progressive. Che sembra difficile, detto così, significa? Significa che è uno strumento, una telecamera, che fa delle foto ad alta risoluzione, che permettono di calcolare l'inclinazione della montatura, l'angolo pantoscopico e anche, eventualmente, qualche assimmetria nello sguardo, nella misura degli occhi. E poi anche la distanza tra la lente e l'apice corneale. e anche l'angolo di rotazione, la distanza che c'è tra la lente e l'asse di rotazione dell'occhio. Beh, tutto molto tecnico, però capiamo che questi sono, immagino, strumenti utilizzati da voi ottici, quindi voi esperti del settore. Ma il senso comunque è che anche tutto ciò che gira intorno al prendo un occhiale perché mi serve, in questi ultimi anni si affida anche a competenze nuove di tecnologia. Cioè, quello che ci stai raccontando è proprio come il mondo occhiali da vista stia veramente andando incontro a tante esigenze. Caspita, sì sì, c'è l'esigenza di chi vuole vedere bene con scarsa illuminazione, l'esigenza dei presbiti, di chi porta l'occhiale progressivo e l'esigenza di sportivi, gente che scia, che gioca a golf, che va in barca. Ogni problema ha una soluzione. È vero. Che adesso con questi nuovi strumenti diventa ancora più perfetta o migliorata, diciamo, forse meglio migliorata. Però il senso è quando sappiamo di dover prendere un occhiale e appunto magari siamo degli sportivi, abbiamo esigenze particolari, affidiamoci insomma a chi fa il tuo mestiere per cercare di capire anche tutti i nuovi strumenti, che possibilità ci danno. Perché poi magari uno che non conosce tanto questo mondo e si ritrova a dover mettere un paio di occhiali, sai, si spaventa e dice, vabbè, dovrò scegliere uno o un altro. Invece no, c'è proprio un'ampia gamma, ampie sfumature. Non si va alla cieca, insomma. Cioè, non è che uno va e compra un occhiale da sole e non sa da dove arriva, non sa se è certificato, non sa niente. Perché un conto è un occhiale da sole, una lente da sole normale, che può scurire e basta. Poi ci sono occhiali che possono risolvere problemi di abbagliamento se guidiamo, oppure di passaggi tra illuminazione e zone scure, tipo le gallerie. Ci sono delle colorazioni che permettono di risolvere questi problemi. Come funziona? Funziona che la colorazione aiuta col contrasto, quindi quando c'è scarsa illuminazione. E l'antiriflesso, come dicevo prima, aiuta a rendere più luminosa la lente e quindi anche a vedere meglio. E la polarizzazione. E cos'è? Perché se ne sente tanto parlare? Ma io non so se è ancora... Vero? Poi si è saltata fuori, per differenziarsi, certe ditte hanno tirato fuori le lenti polarizzanti. Che significa nella pratica? Nella pratica significa che la luce del sole viene riflessa, per esempio, da una strada bagnata. Sì. E ci arriva proprio negli occhi, no? Ci arriva polarizzata, cioè riflessa orizzontalmente e dà fastidio. Certo. Le lenti polarizzanti all'interno hanno un reticolo verticale che smorzano queste oscillazioni e assorbono la luce polarizzata. Quindi così magari noi stiamo camminando, magari stiamo guidando, che è ancora più pericoloso. O pescando, è vero. Vedi sott'acqua, vedi sotto il pelo dell'acqua. Ah, eccoci qui. E beh, sai, io ho grande pescatrice. Sì, è per quello che mi è venuto subito in mente. Però ritorniamo un po' a quello che è l'adeguamento dell'occhiale, a seconda se abbiamo la passione dello sport, non lo so, della pesca in questo caso. Quindi per ogni esigenza c'è una risposta poi tecnica. Senz'altro. Parlavi tu prima dell'occhiale progressivo. Vogliamo spendere due parole anche in questo. Ormai l'occhiale progressivo è diventato molto diffuso, perché la popolazione sta invecchiando e quindi tutti hanno un po' problemi da vicino. La lente progressiva è il top di quanto ogni azienda possa fornire come lente oftalmica. Poi c'è azienda, azienda, chiaramente. Noi usiamo solo Zeiss da 34 anni. E possiamo dire che come lenti progressive è quasi leader mondiale. Perché ricordiamo? E beh, quindi dà una certa affidabilità. Ecco, il fatto che voi... Sono 30 anni più o meno che lavora con le lenti progressive la Zeiss. E soprattutto adesso ha creato un nuovo strumento che si chiama iTerminal, iTerminal 2, che è in grado appunto di misurare tutte le cose che ti ho detto prima, quindi l'asse di rotazione dell'occhio, eccetera. E con questo nuovo strumento si possono fare delle lenti costruite su misura, rispetto a un occhiale con delle lenti progressive che si acquistano solo su prescrizione. Certo. Che sono lenti un po'... Che si trovano un po' dappertutto, insomma. Quindi diciamo che a quel punto abbiamo una lente che ci permette effettivamente una sola lente, un solo occhiale, quindi non dobbiamo fare anche cambi strani, perché sai che poi c'è chi ancora magari ha due paia d'occhiali. I miopi lo fanno, perché da vicino vedono bene, e per vedere vicino se li tolgono. Invece c'è la possibilità di avere un solo occhiale? Ah beh, senz'altro, sì sì. Per ogni esigenza, perché ci sono anche tre profili sulle lenti individuali. Quello bilanciato, che può andare bene a tutti. Quello intermedio, per chi è un po' più sportivo, usa il computer. E poi c'è quello esclusivamente per il vicino. Quindi si favorisce la zona da vicino e si amplia il campo. Ci sono tre possibilità di intervento in quel caso. Io direi che, insomma, è stata una chiacchierata. A tratti vi sarà sembrata tecnica, ma non è vero, perché questo significa solo che Andrea Codato, che è un ottico, sa esattamente come fare il suo lavoro. E no, perché sai, poi ognuno ha il suo ambito di lavoro e spesso a volte si danno per scontati dei termini. Però quello che noi volevamo raccontarvi è, insomma, se aveste bisogno di maggiori informazioni, se foste nella fase, devo rivedere un po' il mio occhiale da vista, ho delle esigenze, il mio occhiale vecchio non risponde più a queste esigenze. Insomma, ci si può affidare a qualcuno come Andrea che ci può spiegare tutto e cercare di trovare una soluzione che effettivamente c'è per tutte le esigenze. Ah, senz'altro. L'importante è andare da un ottico, un optometrista qualificato, non da chiunque. Beh, voi ci siete, insomma, per rispondere a qualsiasi domanda? Noi ci siamo, noi ci siamo. Se qualcuno fosse di passaggio in via Milano 111? A qualsiasi domanda. E per i più tecnologici c'è Facebook, mi dicevi? Ah, sì, siamo anche su Facebook, dove per i nostri clienti è anche possibile fare ordini di lenti a contatto online, se lo dovessero richiedere. E beh, insomma, abbiamo tutte le coordinate. Io intanto ringrazio per essere stato il nostro ospite, insomma, un esordio veramente ottimo. Spero di ritrovarti, Andrea. Anch'io. Grazie per essere stato con noi intanto. Noi ci interrompiamo per ascoltare il nostro secondo momento dedicato alla musica. Devo leggere perché non lo so. Arriva Fabrizio Moro con parole, rumori e giorni e poi di nuovo insieme in studio. Ritorniamo in studio, siamo sempre in diretta. Era Fabrizio Moro. Io vi invito sempre a segnalarci le canzoni se voleste ascoltarne una in particolare, ma è una parentesi che apro e chiudo. Abbiamo ancora dieci minuti prima di salutarci e io all'inizio della puntata ho ricordato un po' che ci saremmo occupati anche di una realtà importantissima. Perché se io dico Panathlon International Club, so che molti fra voi sapranno, insomma, già di cosa stiamo parlando. Però ci rivolgiamo anche a tutti quelli che non conoscono una realtà così importante. E soprattutto oggi dobbiamo chiedervi di prendere carta e penna e disegnarvi una data calendario, il 24 novembre. Mi direte troppe cose, va bene, andiamo per gradi. Innanzitutto diamo il benvenuto a due graditissimi ospiti che vengono nel nostro studio oggi per la prima volta nello studio di Angoli. Quindi un ringraziamento speciale e un benvenuto. Patrizio Pintus, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che lei è il presidente del Panathlon International Club, sezione Comasca, dunque di Como, corretto? Sì, club di Como. E poi non è solo, ma c'è anche Renata Soliani, buongiorno. Buongiorno. Allora, attualmente past manager del Panathlon International, ma ricordiamo che è stata presidente della sezione Comasca dal 2000 al 2003. Ok, perfetto. Quindi così iniziamo a ricondurre, perché in realtà avete moltissime specifiche, moltissime qualifiche, perché Renata è comunque ancora consigliere, corretto? No, ho finito a maggio. Ho fatto otto anni nel Consiglio internazionale, ho terminato a maggio, non più rieleggibile, per cui sono ritornata a anime e corpo nel mio territorio. Ah, ecco, benissimo. Quindi, cioè, avevo mille qualifici, ho preso subito quella che non era più attuale. Invece Patrizio Pintus è anche psicologo dello sport e psicoterapeuta, giusto? Sì. Poi, presidente l'abbiamo detto, docente Coni di Regione Lombardia, e da qualche anno un'esperienza in più in realtà anche. E da qualche anno anche a livello nazionale, con la scuola dello sport Coni nazionale, però. Va bene, va bene. Allora, insomma, al di là delle qualifiche, raccontiamo una realtà importantissima, che è quella del Panathlon. Per tutti coloro che non sapessero di cosa si tratta, signora Sogliani, vogliamo ricordare un po' di cosa si occupa questa associazione. Ma il nome, innanzitutto, che cosa vuol dire Panathlon? Perché viene confuso tantissimo con Pentathlon, eccetera. È troppa confusione. Allora, Panathlon vuol dire tutti gli sport. Ok. Nasce nel 61 anni fa a Venezia, e siamo adesso aumentati tantissimo. Siamo 11.000 soci nel mondo, su quattro continenti, con 270 club, un po' sbilanciati verso l'Italia, un po' tanto, perché è nato in Italia e quindi si è diffuso tantissimo in Italia. La finalità del Panathlon è molto bella. Io la vorrei leggere, per non dimenticare neanche una parola. Lo può fare, assolutamente. È l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra uomini e popoli. È la finalità che ogni club presente nel mondo tiene presente. È la missione ultima, diciamo. In prima linea. E i pilastri sui quali noi fondiamo il nostro lavoro in realtà sono quattro. C'è l'amicizia, la cultura, l'etica e il fair play. A seconda delle entità territoriali sulle quali operiamo, ogni club si muove più in una direzione che in un'altra. Però questa filosofia di base accomuna tutti i service, tutte le manifestazioni, tutte le idee, tutto quello che i club nel territorio si inventano per arrivare a raggiungere gli obiettivi che sono enunciati nelle nostre finalità. Quindi anche se assistiamo o veniamo a conoscenza di manifestazioni, di giornate sostenute dal panathlon, sappiamo comunque che alle spalle, alla base, ci sono questi principi. È corretto? Esatto, è fondamentale. Perché non saremmo panatleti se non ci accomunasse anche il senso del volontariato, perché siamo tutti volontari, il senso dell'amare lo sport come sport puro, così come è nato, con l'idea del confronto, con un confronto leale che porta poi ad avere anche un vincitore, ma che attraverso questa formazione del carattere, attraverso la fatica che fai nel fare gli allenamenti e così via, ti porta anche a diventare un cittadino leale, corretto e quindi con una personalità ben formata. Beh, ce n'è tanto di bisogno, insomma, di questa diffusione di ideali, è corretto? Cioè non se ne parla mai abbastanza. No, anche perché in questo momento è diventato particolarmente difficile, lo sport è sempre che vada da un'altra parte, ma noi panatleti non demordiamo, siamo sempre in prima linea, sicuri che ci sono tante occasioni per far capire soprattutto ai giovani che crescono che lo sport pulito e leale c'è e che attraverso lo sport pulito e leale si può ancora provare la gioia del praticare, di fare sport in qualsiasi ambito, in qualsiasi federazione. Noi siamo per esempio molto stimati dal CIO e a pioggia anche dai comitati olimpici nazionali, dalle federazioni, eccetera, proprio perché nel 2004 come Panatone International abbiamo divulgato approvato e divulgato in un consesso molto importante la dichiarazione del Panatone sull'etica nello sport giovanile. Sono cinque punti che hanno dato al CIO la consapevolezza, visto come la stiamo diffondendo, che siamo veramente in prima linea per la promozione dell'educazione. Io voglio dare i siti internet perché dopo continuiamo a parlare, però iniziate a segnarveli www.panatlon.net che penso faccia capo appunto alla struttura internazionale, ma se volete conoscere, scoprire qualcosa di più della realtà comasca www.panatlon.it e dunque visitate il sito se volete diventare volontari, se volete capire meglio insomma quelli che sono i valori. Noi siamo felici perché si sente tanto parlare di sport che ha ben poco di bello, quindi oggi noi ci prendiamo una parentesi per parlare dello sport vissuto con i valori che lo fondano. E Presidente, io voglio chiederle, insomma, ho chiesto ai nostri telespettatori di segnarsi a calendario il 24 novembre, perché per tutti i comaschi ci sarà un appuntamento importante, lo vogliamo raccontare? Sì, il 24 novembre noi saremo a Villa del Grumello, qua a Como, come da diversi anni a questa parte noi facciamo, per celebrare la giornata internazionale del Fair Play, dove all'interno di questo evento per noi, l'evento più importante del club, al di là delle attività di service, consegneremo da un lato i premi Fair Play, che per noi i premi Fair Play sono di tre tipi, cioè sostanzialmente daremo un premio di Fair Play alla carriera, e quest'anno lo daremo ad Arturo Merzario per la sua importante carriera automobilistica e anche se gli anni passano per il continuo lavoro che fa anche nei confronti dei giovani. Poi abbiamo un premio Fair Play alla promozione che è legato a quelle istituzioni o enti che promuovono lo sport e in questo caso quest'anno avremo il plesso della scuola primaria di Alzate e Brianza, che è una scuola elementare, che in tanti anni ha proposto e integrato tutta una serie di principi e valori etici all'interno della propria attività, per cui verrà premiata come premio Fair Play alla promozione. Tra l'altro questa stessa scuola ha sottoscritto nel 2009 la dichiarazione di cui parlava Renata prima. L'ultimo premio è quello legato al gesto e lo daremo a Fabio De Giacco che è un giocatore del Cavallasca che nel settembre di quest'anno ha sostanzialmente all'interno di una partita detto all'arbitro sostanzialmente che il rigore che avevano concesso a favore della sua squadra non era tale, per cui l'arbitro ha modificato la sua decisione e poi la squadra ha anche perso. Più Fair Play di così però ci vuole del grande coraggio e della grande tempra morale per riconoscere una cosa del genere. Tra l'altro lui fa parte della Guardia di Finanza quindi è una persona delle forze dell'ordine e quindi premieremo anche questa persona che ha fatto appunto un gesto molto importante. Il passaggio successivo è la sottoscrizione delle carte nel senso che a conclusione della mattinata ci saranno diverse società sportive ma anche due comuni che sottoscriveranno la carta la dichiarazione del Panatron sull'etica non suol giovanile. Sono tutte invitate le persone? Sì, è accesso libero. Perché noi ne stiamo parlando ma volevo comunque ricordare a chi ci segue. Alle ore 11 a Villa del Grumello ha fatto benissimo a ricordarlo. L'accesso è libero. Al termine dell'evento ci sarà un ricco cocktail e dopo che avremo appunto fatto la sottoscrizione delle carte con... Beh, sarà una giornata importantissima immagino per voi e per tutte le persone che vogliono anche saperne di più sul Panatron perché comunque immagino che ci sia anche uno spazio un po' dove spiegherete quella che è la vostra attività in quel caso vis-a-vis cioè noi lo stiamo raccontando attraverso la televisione però si può sempre andare di persone questa è un'ottima occasione per farlo. Ma visto che ci mancano pochi minuti io vorrei toccare un altro argomento perché insomma il Panatron entra anche nel mondo della tecnologia vero? Nel meraviglioso mondo delle app e qui devo leggere perché non lo voglio dire sbagliato il Panasport Game è la vostra app? È la nostra app mi commuovo un po' Eh sì perché questa qui è un'app che abbiamo costruito in un anno e mezzo di lavoro volontario ci sono molti panatleti che hanno dato il loro contributo di Como tra cui oltre a Maurizio Monago che è dell'internazionale e del club di Venezia però anche Biagio Santoro che è un medico dello sport dell'ASL che però è anche panatleta del club di Como e per hobby lui scrive canzoni per esempio e ha dato queste canzoni le ha scritte per il gioco le ha depositate alla SIAE e quindi c'è stato tutto un lavoro anche artistico grosso che cos'è questo gioco? Sostanzialmente un'app disponibile per i dispositivi Apple quindi iPad iPhone disponibile anche per tutte le piattaforme Android ed è scaricabile dal sito anche la versione per Windows è particolare questo momento nel senso vabbè io ho curato sono l'autore di questo gioco ho seguito tutta la sua costruzione la sua evoluzione e ho fatto anche la commozione allora sì perché l'app è assolutamente gratuita ecco questo è importantissimo dirlo e rimarrà gratuita nel senso che io come autore ho sottoscritto col Panatron una e quindi per chi è quest'atto? a chi la consiglia? visto che è lei che l'ha un po' creata ed è rivolta a tutti i giovani a tutti gli operatori del mondo dello sport insegnanti educatori piuttosto che allenatori dirigenti famiglie dove sostanzialmente si gioca per portare a termine un sogno che è la cittadella dello sport all'interno di nove stagioni agonistiche allora visto che purtroppo il tempo qui è tiranno e io devo chiudere invito in ultima battuta a scaricare l'app del Panatron i siti che valgono sono sempre www.panatroncomo.it in generale andate a visitarvi anche www.panatron.net che almeno si capisce tutto il 24 novembre tutti a Villa del Grumello alle ore 11 ci sarà la giornata nazionale internazionale del fair play verranno consegnati i premi e si potrà parlare con voi che fate un lavoro meraviglioso 365 giorni all'anno grazie posso ringraziarvi moltissimo ringrazio Patrizio Pintus il presidente del Panatron di Como e Renata Soliani past manager del Panatron International grazie grazie a lei grazie davvero e noi purtroppo dobbiamo proprio salutarci arriva troppo presto la fine però si siamo arrivati a luna quindi io vi auguro un buon appetito buon pomeriggio e vi ricordo come sempre che Angoli in realtà ritorna domani alle ore 12 saremo in diretta per tenervi compagnia con un'altra puntata tanti ospiti tanti argomenti a domani meraviglioso se voli un bacio non hai il caraggio di mentire grazie a tutti